Il Commissariato di Pubblica Sicurezza della Vanchiglia ha eseguito la misura del fermo di indiziato di delitto nei confronti di tre soggetti, tutti di origine marocchina, che occupavano abusivamente un alloggio in uno stabile abbandonato in via Bologna, diventato il campo base delle relative attività criminali. Ad introdurre l'operazione, il dirigente del Commissariato di Polizia della Vanchiglia Elena Manti. Ci ha resi particolarmente soddisfatti perché vede come vittime donne, signore, da sole, che al mattino andavano a lavorare, al mattino presto, e che sono state rapinate malamente. L'attività del Commissariato che adesso la dottoressa presenterà ha consentito di advenire al fermo di tre soggetti ex comunitari, irregolari, responsabili di questa rapina particolarmente violente, e attuate anche in condizioni in cui le vittime si trovavano impossibilitate materialmente a difendersi. Il Commissario Capo, Marilina Castaldo, vice dirigente del Commissariato di Oravanchiglia, ha illustrato le indagini e il fermo dei tre rapinatori. Il 18 aprile ultimo scorso, quando una signora che sta andando a lavoro si vede avvicinata mentre si trova all'interno della propria autovettura nei pressi di Via Perugia. Sono due soggetti, uno che tenta di aprire l'autovettura e scaraventarla fuori, lei si aggrappa allo sportello per difendersi, ed un secondo soggetto che non aveva visto riesce ad aprire l'altro portellone e a sottrarne la borsa. Nella colluttazione lei rimane ferita, ha un ematoma, le esce del sangue da vicino al labbro e rimane molto scorsa, venendo succorsa dai passati. Allora, riusciamo a individuare quelli che sono i riferimenti di questi due autori, sono riferimenti a livello di immagine. Esiste non solo una correlazione tra l'attività criminale e l'alloggio che abbiamo trovato, ma esiste una terza persona di cui nessuno ci ha parlato. Continuano quelle che sono le attività sul territorio che sono incessanti e che portano a due risultati operativi già nel giorno del 26 aprile. Il 26 aprile riusciamo a ottenere questi risultati. Da una parte scopriamo che un'altra persona era stata rapinata sempre da questi soggetti, sempre con modalità simili, e che uno dei soggetti che avevamo già fermati era uno dei responsabili. Questa volta la vittima è un uomo che viene avvicinato con la scusa di una sigaretta e alla risposta negativa della richiesta viene colpito da un oggetto contundente e scaramentato per terra. Tutto questo per un cellulare di pochissimo valore. Sempre nella giornata del 26 aprile otteniamo un risultato ancora più grande, quella che è l'individuazione del terzo soggetto che effettua le rapine e che scopriamo essere responsabile di un'altra rapina che era stata effettuata qualche giorno prima. In data indice, tutti irregolari, tutti relativamente giovani, fino anche tra l'86 e l'86, e si tratta di soggetti che non solo hanno dei precedenti specifici, ma uno dei tre, per la precisione il secondo complice, quello che sottrae la borsa nella rapina dell'autopettura, era da poco uscito da carcere per reati del verissimo tempo. Grazie a tutti.